su Lautaro Martinez è richiamato al VAR viene dato il rigore adesso anche Inzaghi si piglia un cartellino giallo si piglia un cartellino giallo Inzaghi cosa serve? gli ha chiesto come hai fatto a non vederlo non ho capito cosa, penso al rigore comunque, rigore confermato fallo cross dalla sinistra per Lautaro che viene preso alle spalle da Perez messo giù un po' di VAR due minuti e mezzo, tre minuti di VAR poi alla fine c'è calcio di rigore Cialanoglu sul dischetto fischia, no? Di Bello non fischia ancora dice giocatore parte Ciala! Akan! Cialanoglu! 1-0 per l'Inter settimo gol in campionato per Ciala portiere a sinistra pallone a destra 1-0 Akan! Cialanoglu! Ciala! 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 Ascolta Ascolta Ciala Canna Ascolta Canna! Dai ragazzi, dai, dai! Vai! Di quei sette lì, quanti ne ha fatti su rigore? Sei su rigore, uno con Napoli là fuori! Sei su rigore! Un gol su azione! Sei su rigore! Beh sai, c'è chi li sa tirare e poi c'è Vlaovic! No, c'è chi li danno! C'è chi li sa tirare e poi c'è Vlaovic! Se poi li sbagliate non è colpa mia! Tutte le domeniche c'è un rigore! Ma perché noi entriamo in aria, Marcello? Noi entriamo ogni minuto e siamo in aria! Ma poi è che li danno anche a voi! Se poi voi li sbagliate, è a meno colpa mia! Beh, però Marcello mi sembrava netto questo rigore, no? Sì, sì, sì! No, la trattenuta si vede! Il braccio su Lautaro c'è ma siccome io non mi fido mai di Lautaro perché Lautaro è uno che simula quindi chiaramente basta che gli appoggi una mano e lui si butta perché il pallone già non l'avrebbe mai preso E invece gli altri attaccanti stanno in piedi e tentano di fare gol No, ma di Lautaro! Ma dai, Marcello! Cambiaso col Monza ha fatto un sacco di resistenza per stare in piedi, eh! Esatto! Guarda, non voleva neanche andare per terra! Cioè, stasera lo vuoi! Stasera lo vuoi il rigore per una sfiora per una cinturata non lo volevi! No, ma io guarda che quello che su Cambiaso dico che rigore! Lì è Cambiaso che si fa! Ma su Cambiaso il rigore io l'ho detto dal primo minuto ho detto, ma quello del Monza cosa fa? Ha fatto una stupidata e la rigore! Poi non è che Cambiaso sta in piedi! Cambiaso va giù perché sente il contatto e va giù! Comunque, Udinese in avanti! Attenzione! Spazza Darmian! Uff! Recupera l'Udinese ancora Pereira, anzi Pajero per Ferreira ricomincia dalla metà campo Perez l'autore del fallo su Lautaro E a proposito di Perez tirattina d'orecchie Lorenzo se l'è perso in maniera cioè un fallo abbastanza ingenuo per essersi perso Lautaro così Sì, guarda allora ti dico ti dico questo Perez non è la prima volta che fa queste fesserie ok? Quindi l'ha toccato eccetera però ho avuto anche l'impressione diciamola tutta che il signor Lautaro si sia un po' anche buttato e siamo in due e siamo in due che sia questo rigore nettissimo non ci credo no siamo in due però scusa Lorenzo ti faccio una domanda Perez è a distanza siderale dal pallone e a un metro da Lautaro perché allunghi la mano perché in area di rigore deve allungare la mano prendere la spalla di Lautaro e tirare lascia l'andare lascia l'andare spieghi Filippo è vero questo è tutto vero quello che dici l'ha toccato l'ha toccato però mi ha dato anche l'impressione che il signor Lautaro ne abbia anche approfittato vabbè ma certo ma è il suo lavoro come fanno tutti gli attaccanti della serie A fanno così anche se non vengono toccati lo fanno anche se non vengono toccati lo fanno quindi parliamo di Lautaro queste fanno senza se senza ma punto cioè non ho capito di cosa bisogna ricamare Lautaro è uno specialista è uno specialista non si ricamiamo niente era rigore d'accordo però insomma vedo una donna che cade prima di tirarla su chiamo il bar Bissek Bissek il limite dell'area di rigore poi si inventa un pallone filtrante per Di Marco attenzione Turam in area di rigore si esce poi a rimorchio per Barella sulla destra ancora Bissek bravo per Turam cross in mezzo per Dima chiusura dell'Udinese tutto di prima e Bissek ragazzi molto molto bene molto molto bene corner per l'Inter dalla destra intanto rivediamo spiazzato Silvestri bravissimo Ciala ancora una volta implacabile il destro con Silvestri a sinistra e pallone dall'altra parte corner per l'Inter dalla destra Di Marco arriva al cross questa volta corto però l'Udinese con Wallace non si fida e di testa mette ancora in calcio d'angolo minuto 41 ci va ancora Di Marco dalla bandierina vediamo si avvicina anche Ciala però quindi solito Rebus destro sinistro cioè si allontana Di Marco quindi va Ciala con il destro arriva al cross in mezzo mette fuori ancora la difesa dell'Udinese recupera Mkhitaryan di testa per Barella rimaniamo ancora in fase offensiva con Barella che allarga tutto per Ciala altra posizione di cross pallone in mezzo mette ancora una volta fuori la difesa dell'Udinese che non ha proprio dei piccoletti Ciala Noglu recupera Palla limita la rigore trova Di Marco per il sinistro e c'è il 2-0 Federico Di Marco su assist di Ciala 2-0 per l'Inter Ciala allarga Dima incrocia col mancino e batte Silvestri Inter 2 Udinese 0 Ciala Noglu il primo Di Marco il secondo dai ragazzi dai 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 pratica che l'Inter sta portando a compimento bene alla fine di questo primo tempo serviva il gol del vantaggio una volta che la partita si è sbloccata l'Inter sembra andare davvero sui binari il raddoppio di Di Marco sciagurata la difesa dell'Udinese che perde un pallone imbarazzante con Ciala Noglu che allarga per Di Marco chirurgico il suo sinistro per il gol del 2-0 ve lo faccio vedere anche alla lavagna bello 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 non la può in questo caso Silvestri tutto nasce dalla parte destra dalla parte sinistra della difesa dell'Udinese con Lautaro che va in pressing pasticce non poco la difesa dell'Udinese che si fanno soffiare il pallone i giocatori dell'Udinese al limite dell'area la palla per Ciala Noglu bravissimo a smistare per Di Marco questa è la sua mattonella perfetta sinistro a incrociare nulla da fare per Silvestri 2-0 Inter per noi due minuti lì nella regia e ci vediamo per il finale di tempo 3-0 per l'Inter cross di Mkhitaryan sul secondo palo arriva Turam che deve solo fare il tap in per il 3-0 dell'Inter Marcus Turam arrivato il pallone sulla sinistra per Mkhitaryan che con il mancino adesso vediamo Di Marco a rimorchio Mkhitaryan col mancino di prima sbaglia Perez che lascia andare praticamente Turam solo davanti a Silvestri sulla linea di porta deve solo mettere il piattone il francese per il 3-0 dell'Inter dai ragazzi in 7 minuti 37-42-45 in 8 minuti l'Inter chiude la pratica Udinese già al termine del primo tempo 3-0 Udinese totalmente in bambola Inter che domina e segna il terzo gol con Marcus Turam credo che ci sia la pubblicità da recuperare e rientrià insieme è un dominio senza esclusione di colpi quello dell'Inter ha sferato il 4-0 anche Lautaro Martinez adesso eh se lo magna qua Lautaro azione stupenda ancora Mkhitaryan che allarga per Di Marco Di Marco tutto solo cross in mezzo sul primo palo si inserisce bene Lautaro che allarga il piattone ma non inquadra la porta da un metro quindi peccato per Lautaro perché sta lottando ovviamente per vincere la classella marcatoria è molto in vantaggio sul secondo che tra l'altro credo sia Cialanoglu ad oggi credo che sia 7 gol insieme a Dosimè credo 47 di gioco stiamo solo aspettando il fischio finale del primo tempo di Di Bello che arriva in questo momento eh sì no arriva adesso finisce il primo tempo 3-0 per l'Inter un primo tempo spettacolare della squadra di Inzaghi spettacolare Carlo Lorenzo una brutta notizia per te ci sono ancora 45 minuti non finisce qui eh l'hai detto speravo speravo finisse qui la partita guarda io speravo finisse qui la partita cioè voglio dire che siamo veramente ci stanno prendendo veramente appallomate come si dice un Udinese inesistente ma soprattutto devo dire onestamente che l'Inter sta facendo una partita che a me che piace il calcio mi fa godere giocare così c'è una cosa incredibile come sta giocando l'Inter insomma sarà che sarà che vede il bianconero davanti ma insomma sta giocando veramente una partita su rigore non rigore eccetera di fronte a questa Inter meritatissimo il 3-0 che vi devo dire insomma non vorrei trovare giustificazioni perché per dire che nella difesa manca uno come Bigiole che forse Silvestri non dà la sicurezza che i difensori vorrebbero ma Perez insomma ne ha fatte di cotte di crudo insomma può fare lo chef a questo punto praticamente dai su non è possibile comunque chapeau all'Inter caro Marcello è il quinto contro sorpasso sbaglio? quarto quarto mi sembra il quarto avrei detto il quinto vabbè magari mi sbaglio magari mi sbaglio io vabbè sì ma questo contro sorpasso qui allora io speravo che non succedesse domenica scorsa che mi aspettavo un altro Napoli ma questo di questa domenica era prevedibile ma senza voler non me ne voglia pietizione ma l'udinese di quest'anno è veramente cioè una cosa mai vista non è l'udinese spiega notiziano che ha perso il Cero San Siro con l'udinese sì ma infatti perché non ti fai gli affari pochi per ricordare perché devi dare lo spunto suggerimento per prendermi per i fondelli per coinvolgerti per coinvolgerti sono già cos'è cosa c'è io ho 27 Champions League ah beh allora ti tornano utili stasera no è l'unica cosa a cui mi posso aggrappare cosa devo fare devo prendere quel posto e andare in tasca e devo andare a casa sei solo a meno nove non è che sei tanto lontano meno nove ma faccio il tempo a recuperare appunto dico tre partite cosa vuol che sia Tiziano scusa non è per farti ancora del male ma l'unica partita che l'udinese in questo campionato ha vinto l'ha vinto proprio in quello stadio lì ecco ma non contro l'Inter sì però che il Milan quest'anno abbia dei problemi lo sai che mi eri simpatico mi eri simpatico adesso invece mi stai un po' sulle balle il problema il problema è che il Milan ha dei grossi problemi ha dei grossi problemi il Milan lo abbiamo visto anche stasera cioè anche a Bergamo a Bergamo hanno praticamente vinto tutti oppure o meno non hanno perso la Juve non ha perso il Napoli ha vinto l'Inter ha vinto sì però il Milan perde non ci sono giustificazioni però sono otto ancora gli infortunati tra cui 5 centrali e quindi di conseguenza non è un attenuante anche quello ha influito e influisce restiamo sull'Inter per andare da Filippo per capire chi sale e chi sale quindi assente sì allora ovviamente non scende nessuno allora se va l'Inter devi stare entro il 10 ti ricordi devi stare no allora se l'Inter va avanti così e finisce bene poi nel secondo tempo pensiamo anche a non mettere un giocatore ma qualcun altro per ora mi limito ai tre giocatori anche se dovrebbero essere tutti perché comunque è un Inter che ha giocato bene proprio a livello corale cioè sarebbero da mettere tutti su con otto nove comunque metto su Cialanoglu otto gol e assist gol su rigore e assist a Di Marco Di Marco otto e mezzo che fa fa gol ma ha messo non so quanti palloni in area di rigore anche l'assist per Lautaro lo stop al volo lo stop al volo Di Marco fantastico e poi do otto anche a Bissec perché ha fatto un primo tempo sontuoso anche in zona offensiva poi dovrei darlo a Mkhitaryan a Bastoni a tutti Turam Lautaro un po' meno che ha sbagliato gol ma ha giocato comunque da sette Varela tutti cioè è difficile però i tre avrei messo anche Turam che ha segnato però mi sento di dover premiare Bissec perché ha fatto veramente un primo tempo bellissimo sei d'accordo Thomas? d'accordissimo d'accordissimo dopo diciamo la disfatta che ci fu a Benfica per quanto riguarda Bissec stasera l'ho visto veramente in palla con molta determinazione sia in fase difensiva sia in fase offensiva un giocatore che esce palla al piede in tranquillità come se giocasse da vent'anni nell'Inter oggi parlo di oggi a Benfica non mi era piaciuto infatti avevo dei dubbi Benfica non è una città è una squadra scusami Benfica è una squadra non è una città a Lisbona dove gioca a Lisbona Benfica gioca a Lisbona scusatemi e quindi niente bene l'Inter bene i primi 45 minuti veramente ad alto livello e soprattutto tutti e 45 minuti l'Inter ha giocato così con la stessa intensità e con la voglia proprio di fare male all'avversario e quindi questa deve essere la linea e deve essere deve continuare così anche il secondo tempo l'obiettivo dell'Udinese invece è evitare che la figuraccia degeneri e peggiori Lorenzo beh sai peggio di così non so dove si può arrivare voglio dire insomma guarda cioè ti dico io mi sto divertendo a vedere giocare l'Inter certo che se dovessi parlare dell'Udinese comincerei a pregare insomma a questo punto perché non non è possibile però la differenza è la differenza ci mancano un sacco di fortunati tutto quello che vuole però insomma ti ripeto mi sembra adesso a Guantanamo prigioniere di un Inter che fa quello che vuole il campo e lo fa anche bene arrivo subito Marcello ti do subito la parola con quello che si è visto finora da parte dell'Inter e da parte dell'Udinese io ero ero già avevo già la consapevolezza di come sarebbe finita questa partita infatti pensavo che sarebbe finita tanti a pochi oppure tanti a niente perché l'Udinese è veramente una grandissima delusione l'Inter in casa è un tritassassi spinge sull'acceleratore subito mette subito sotto gli avversari quindi con questo Udinese che reazione sì ha avuto casualmente quelle due opportunità non sfruttate sullo 0-0 però alla fine era questa la partita che ci immaginavamo chiaro che chiaro che ad aprire questa carosello questo show questa fantasmagorica performance interista c'è voluto un rigore però adesso chiaramente si viaggia sul velluto tutto qua ha capito Marcello però purtroppo viene toccato e quindi se ci sono i rigori vanno dati Marcello e lo so che abbiamo aperto così l'Inter prima di quell'azione ha creato nove palle golle entrando in aria purtroppo io non sto dicendo che non merita l'Inter no no ma tu hai detto l'Inter è molto forte gioca bene però hai parlato dell'episodio hai parlato dell'episodio come per dire siete andati in vantaggio tramite quell'episodio però non è così scusami dopo l'episodio dopo l'episodio l'Udinese capitombola ma anche prima dell'episodio mancava solo il gol Marcello fino al rigore l'Udinese cercava di tenere poi dopo al momento dopo il rigore capitombola giù è crollata completamente cioè quello che tu vuoi dire è che diciamo che ha accentuato la caduta Lautaro quello vuoi dire però è stato toccato l'accentuato perché appena sente il braccio addosso perfetto invece 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 Ozyman come lo schiora appena appena Cerbi va per terra fa un volo di un chilometro avanti lì va bene scusami ma secondo te per un calcetto del genere ma stiamo parlando di un rigore dato e di uno non dato ho capito cosa vuol dire non puoi paragonare ma no però quello lì visto per un calcetto ci hanno dato il rigore ma non è vero per il calcetto non ti ha dato niente stiamo parlando dell'accentuare stasera per una manata sopra la spalla ti danno il rigore per il calcio ma chi gli ha detto di mettere la mano sopra il giocatore ma io veramente ma scusate il regolamento cosa dice se viene indoccato in aria io veramente non riesco a capire ma è possibile che stiamo facendo una polemica anche oggi perché l'Inter ha avuto un rigore che c'è cioè io non riesco veramente a capire un conto è fare una polemica esagerata come spesso capita su un episodio perché lì dubbio ma qui c'è un rigore netto che l'Inter ha avuto e stiamo facendo l'Inter vince 3 a 0 strameritatamente con un rigore che c'è e stiamo facendo polemica sul rigore che c'è ma io veramente non se era netto se era netto non è netto non è rigore netto non è rigore netto ma Marce però con te non si può veramente è impossibile ma con te ma per l'Inter non c'è mai un rigore per te sono tutti o dubbi o regalati invece i tuoi sono tutti buoni a te t'annullano un gol per fuorigioco dato da una macchina e te vuoi cambiare la regola tu vuoi cambiare la regola perché t'annullano un gol con mezzo tacco fuori non va bene la regola però così sei ingiocabile scusami sei veramente ingiocabile ma perché parli da solo sempre no non parlo da solo fai sempre solo polemica e vabbè ma scusa io sono qua per fare anche le polemiche ma non te le puoi inventare però sul rigore che c'è però io vorrei capire scusa a te ti dà fastidio che uno non ammetta uno crea la discussione no siamo qua per discutere sì ma tu vai sempre in una sola direzione non è questione di discutere io volevo dire una cosa che mi impedisci di dire io sto dicendo se era così netto ma perché sono stati cinque minuti al VAR a vederlo l'hanno dovuto chiamare se era netto l'arbitro fischiava dava rigore chiaramente si dava il rigore perché l'arbitro diceva come dice il protocollo l'ho visto io basta chiuso invece l'arbitro già lo lascia correre quindi già al dubbio scusa ma è la prima volta che l'arbitro non vede un rigore lo straguardano ma poi dopo sì ma poi dopo lo guardano lo riguardano lo straguardano lo chiamano per un rigore netto ma se era netto scusa netto nel senso che c'è è un rigore che c'è tanto è vero che il VAR lo guarda e dice c'è ma qual è il problema lo guarda lo riguarda lo straguarda e poi chiama anche l'arbitro a dire prova a venire a vedere anche tu ha ragione Marcello scusa prova a venire a vedere anche tu cioè che questo rigore io basta che questo rigore sia netto come dici te non ci sto non ci sto perché ci sono degli arbitri che in queste occasioni in queste occasioni dicono al signor Lottaro ci rialzi per favore e torni al centro del campo questo non era netto perché l'arbitro ha dovuto guardare per lungo tempo anche il VAR scusami Lorenzo per te è rigore o no? allora risolviamola qua per te è rigore o no? e poi l'abbia dato per te è rigore o no? sì o no? per me no devo dire per te non è rigore benissimo avrei sorvolato no avrei sorvolato che poi l'Inter meriti di vincere 3 a 0 ma su quello su quello non mettiamo neanche Beto fatemi sentire che Tiziano poi mi devo fermare non era un rigore perché l'arbitro infatti non l'ha fischiato come rigore ma scusate ma adesso ma perdonate ma l'arbitro non sbaglia mai? cioè l'arbitro di campo non sbaglia mai il VAR cosa lo ha messo a fare? quante volte lo abbiamo detto? c'è il VAR è tornato sulle sue posizioni esatto fatemi sentire Tiziano poi mi devo fermare sapete che io amo i numeri il settimo rigore concesso all'Inter però è anche vero che ha l'attacco nettamente più forte del campionato e quindi gioca un calcio molto offensivo ma il rigore o no? secondo te porta diversi giocatori secondo me ci sta il rigore va bene ragazzi due minuti lì nella regia e poi ci tuffiamo sul secondo tempo mi hanno aspettato la fine della nostra pubblicità per rientrare in campo con calma no in realtà l'Inter è in campo da cinque minuti l'Udinese che esce sapeva che noi eravamo in pubblicità ha detto quanto manca con molta calma esce adesso camminando quando i loro avversari sono in campo da cinque minuti ma dove devi andare? no è questione di educazione semplicemente quello so che per molti non è conosciuta la parola però è questione di rispetto e di educazione parlano gli onestoni parlano gli onestoni dai non è l'estone che mi hanno insegnato l'educazione qualcosa ne capisco voi siete onesti educati per me tutto voi le qualità le avete tutto voi le arcange di della selega seriana io non parlo di tutti io parlo di me ma la classifica l'abbiamo usata io pensavo ti riferissi all'Inter all'Inter no 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 ecco la classifica guarda che bella contro sorpasso che non puntate il quarto il quinto contro sorpasso il quarto il quarto il quarto il quarto non vai su con la scaletta caro Marcello eh su con la scalettina non c'è più non c'è più non me l'ha mai messa a disposizione di solito ti arrampichi per arrivare a quel primo posto purtroppo devi ancora devi ancora aspettare un'altra settimana per fare il sorpasso quanti ne abbiamo oggi 10 di dicembre ne abbiamo 10 oggi no 9 ma scusa ma hai detto che vuoi arrivare quarto cosa te ne frega hai detto che arrivare in Champions League basta io ti ho detto che dal momento in cui la classifica si è messa in un certo modo io personalmente punto al bersaglio grosso ah sei come Rugani te ci credi poi mi allenatore poi guarda il mio allenatore sai dice delle cose in pubblico e poi in uno spogliatore bravo bravo vedi che cominciamo a smascherarvi bravo bravo hai detto la cosa giusta bisogna essere smascherato ho sempre detto questo ci credete dai che ci credete sarà una bella battaglia fino alla fine sono convinto di questo vediamoci questo grande spettacolo iperurani come hai visto sulla terra godiamocelo tutto finché siamo qua che possiamo permetterci esatto Udinese Udinese in possesso palla quando siamo al 47esimo recupera però Di Marco 1-2 con Mkhitaryan verticale per Lautaro ancora Lautaro si subbutta nello spazio Di Marco pallone orizzontale per Turam ancora Lautaro sempre sulla sinistra per Mkhitaryan ritornano nelle proprie posizioni difensive il giocatore dell'Udinese allora si alleggerisce all'indietro per Bastoni ma si continua a insistere sulla fascia sinistra Mkhitaryan Barella vince un contrasto ancora Michi pallone per Bastoni tre su di lui o meglio tre su Barella quindi la palla non può essere mandata ancora in verticale ma si insiste sempre sulla fascia sinistra questa volta con Barella vicino alla linea dell'auto due uomini addosso pallone all'indietro per Acerbi Acerbi orizzontale per Bissek che avanza di qualche metro poi Darmian chiama palla Mkhitaryan ma Luca davanti allora si torna da Acerbi l'Inter con calma si riorganizza e riparte da Acerbi che sventaglia sulla sinistra per il liberissimo Bastoni va a verticalizzare per Lautaro l'1-2 con Fintap su Turam ancora Turam larga per Di Marco Duram fino in fondo sulla sinistra due uomini addosso Di Marco 1-2 con Barella dacco per Turam qui si esagera un pochino e allora recupera la palla all'Udinese ma la recupera anche Mkhitaryan poi c'è forse un fallo ma va via molto bene Bosele sulla destra anche a Di Marco poi c'è un fallo su di lui calcio di punizione per l'Udinese Punizione per l'Udinese che appunto adesso Lorenzo deve cercare di salvare il salvabile come si dice no? Sì soprattutto la faccia a questo punto perché insomma fino a questo momento ripeto siamo stati prigionieri di questa Inter adesso vediamo se c'è qualche cambio magari in arrivo ma ora c'è questo attacco portato dai Bosele speriamo che sia convinto resta già come non detto ciao c'è niente da fare si allunga la palla sul fondo ma il fallo di Bastoni non è stato sanzionato sì che gli ha dato Marce dai sì dico ma un giallo non lo tira ci stava ci poteva stare il giallo ci poteva stare il giallo ci poteva assolutamente stare il giallo anche se poi non fa niente Bosele per rimanere su certo ma no ma gli da ma gli da ma cosa deve fare sto scherzando stavo scherzando ti ho detto che ci stava una cosa è certa che è stato recuperato al 100% dopo una botta del genere diciamo no quindi vuol dire che il ragazzo è recuperato al 100% ma è anche bello torciato sì sì no però sai era in dubbio se farlo giocare dall'inizio no devo dire che per farlo giocare dall'inizio non c'erano dubbi infatti adesso credo che anche l'Inter possa ragionare e pensare già a martedì no alla Lea Sociedad secondo me fra una ventina di minuti quando si arriva al settantesimo per esempio Bastoni magari esce entra Carlos Augusto adesso adesso vediamo comunque ora Barella alza per Turam entra in area di rigore Lautaro che però prova l'anticipo su Perez credo che manchi solo questo stasera nella serata dell'Inter il gol di Lautaro Martinez se vogliamo la classifica esatto rimessa dal fondo per l'Udinese però ha già fatto ha già fatto un bel numero Lautaro su rigore cioè stato determinante però il gol è un'altra cosa Marcello sai quando vinci 3-0 il centroavanti dice fammi partecipare alla festa diciamo però che questo è stato come un assist dai mettiamo la casella assist Udinese in possesso zona difensiva di sinistra verticalizza palla in piedi Darmian la va a recuperare colpo di tacco di Barella che però va a finire tra i piedi dell'Udinese con il cerchio di centrocampo Samarzic che allarga per Ebosele che fa fuori di Marco poi avanza su Mkhitaryan fa valere il fisico Ebosele entra in area di rigore si lascia andare non c'è fallo a parte che era fuori comunque Mkhitaryan Mkhitaryan ora il pallone sulla sinistra finta su Pereira poi pallone dietro per Bastoni che gioca ancora su Mkhitaryan Mkhitaryan orizzontale per Ciala in area di rigore nero-azzurra si allontanano i giocatori dell'Udinese che rinunciano al pressing allora può con calma orchestrare il gioco Ciala che allarga sulla sinistra per Bastoni avanza di qualche metro basto supera la metà campo poi verticalizza anzi cambia gioco sulla sinistra sbaglia sbaglia però anche l'Udinese Darmian recupera sbaglia anche Darmian colpisce con la mano però Paiero e quindi c'è calcio di punizione per l'Inter nel cerchio di centrocampo praticamente appena superati la mediana qua c'è abbastanza evidente il fatto che Bosele si lasci andare ora c'è fallo per l'Inter già battuto è evidente secondo te è fallo? no dai non esageriamo non l'ho visto bene io ho visto che è caduta da protestato adesso vorrei rivederlo poi lo rivedo e te lo dico va bene ancora Samarzic va a verticalizzare con Cerbi che va a chiudere su Lucca c'è fallo laterale a favore dell'Udinese zona difensiva l'intensità guarda l'intensità della manata di Michitari è uguale a quella sull'Autaro identica giusto Lorenzo? giusto Lorenzo? giusto Lorenzo uguale la stessa intensità del fallo no no ha ragione ha ragione Marcello ma cosa state dicendo ragazzi ma state scherzando va bene non era in aria ma ho capito ma gamba contro gamba una spinta leggera ragazzi è una spinta leggera si ma cosa fa si ma lasciamo di ma lascia fa io capisco io capisco che fa male io capisco Marcello che volevi fare questo sorpasso io ti capisco però devi dare devi dare retta a questa grande squadra che sta giocando un calcio strepitoso e quindi sta meritando di stravincere Damián Damián sulla destra si sovrappone Barella pallone indietro ancora per Ciala tre quarti finita al cross Ciala ritorna e poi dà in orizzontale ad Acerbi ancora per Bastoni alza la testa Basto verticalizza per Turam Turam a rimorchio per Mkhitaryan Mkhitaryan sbaglia va a recuperare Basto che cambia tutto dall'altra parte sulla destra per Damián che non colpisce benissimo la palla poi sbaglia anche l'Udinese recupera quindi l'Inter che rimane in avanti con Cialanoglu verticale per Barella Barella per Lautaro Lautaro un po' lungo il pallone di Barella per Lauti non ci può arrivare l'Argentino rimessa dal fondo per l'Udinese Lautaro inquadrato è su di lui che c'è il focus perché in questo momento sicuramente è quello che sta un po' mancando almeno nel tabellino sempre molto generoso molto combattivo però insomma credo che il popolo di San Sirono Filippo si aspetti il suo gol stasera beh sarebbe importante soprattutto per la classifica cannonieri poi voglio dire ne ha già fatti tantissimi quindi non è che si può segnare tutte le domeniche però però sì in una situazione di punte non è come i rigori non ha mai tirato i rigori ci ne ha tirato uno solo i rigori sono scontati ogni domenica mentre invece il gol di Lautaro può anche non venire guarda caso contro di voi non ce l'hanno dato però guarda caso eh non c'era non c'era non siete entrati in area non siete entrati in area voi che entrate sempre in area non entrate perché è giusto perché tutta la settimana che sta lì che stuzzica cerca di fare questo sorpasso ma purtroppo devi stare dietro ancora per una settimana caro amico mio eh eh ti costa devi stare lì eh magari starò dietro anche un po' più di una settimana però sai da qui a maggio maggio a me è un mese che piace soprattutto i primi giorni sì 79 di gioco arriva un cartellino giallo per qualcuno sulla panchina dell'Udinese quinto e ultimo cambio nell'Inter un po' particolare questo cambio sì perché Inzaghi fa entrare Sensi al posto di Mkhitaryan è stato ammunito Cioffi e non fa giocare Frattesi oggi quindi non lo so se Frattesi a questo punto può essere papabile di una maglia da titolare contro la Real Sociedad ma non credo nel senso che il centrocampo titolare è difficile da cambiare quindi Marcello polemiche in casa Inter strappo in casa Inter sì sì no 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 non mi far fare questa figura di quello che vuole nel metaverso l'Udinese sta vincendo 3 a 0 no non ho detto io ho detto disastro Inter e c'è il caso Frattesi esatto che uno che ci segue da casa ci piglia per ubriachi non arrivo non arrivo non arrivo a questo dico solo che secondo me cioè tutto tutto è nato da quel rigore lì tutto tutto nasce la storia di questa partita nasce da quel Marcello 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 eh parla eh ma dillo con dolcezza eh parla parla pure all'Inter hanno dato sette rigori lo sai? ma te l'ho detto dall'inizio della trasmissione domenica te l'ho detto io perché i numeri ce li ho io ma con questo lo so che tu dai numeri però ma cosa cosa ti fa pensare questo tizio? che avete un gioco d'attacco efficiente efficace bravo che siamo sempre in aria quindi creiamo palle e golle può darsi meno 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 che con la Juve ho detto questo ho detto che mettere un gioco d'attacco efficace però se creiamo palle di quadrado quadrado cross per Arnautovic tira fuori Christensen poi Bucabarella può ripartire l'Udinese eh però Tiziano hanno un gioco d'attacco ma con la Juve in aria non entravano eh lì non si sono riusciti a buttare peccato lì non si sono riusciti a buttare pensa che l'Inter ha subito sette gol uno gliel'ha fatto anche il Milan pensa un po' eh che ce l'ha fatto il gol Milan Milan ce l'ha fatto Leao 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 uno gliel'ha fatto anche la Juve uno gliel'ha fatto anche la Juve sì e quei sette gol eh Sassuolo ce ne ha fatti due Sassuolo ce ne ha fatti due Bologna ce ne ha fatti due Bologna ce ne ha fatti due ce ne ha fatti due ce ne manca uno allora due quattro sei Sassuolo Milan Bologna Atalanta l'Atalanta con un fallo su Di Marco che nessuno di cui Marcello non ha mai parlato però è certo ha riaperto la partita con un fallo di Lucman su Di Marco ma Marcello penso non ne abbia mai parlato se fosse successo il contrario saremmo stati qua due mesi e mezzo ne abbiamo parlato ah sì no non lo ricordi non lo ricordi non lo ricordi non ricorda neanche come è andato in vantaggio a Monza non lo ricorda come è andato in vantaggio a Monza no? su un calcio d'angolo che non c'era ma voi devo dire che siete campioni d'Italia già per quanto riguarda il modo in cui riuscite a spostare attenzione Quadrado che perde palla Quadrado Quadrado attenzione a Zamora Zamora si avvicina all'area di rigore Zamora largo c'è e sbaglia tutto Zamora e regala palla a Darmian questa poteva essere un'ottima occasione per l'Udinese poi anche a Darmian molto molto stanco era tutto libero per Eira ma vai stanchi ragazzi vai a loro gli danno sette rigori però poi dopo riescono a spostare l'attenzione sono abilissimi in questo sul cambiare no Marcia hai ragione ma sono dati di fatto sai cos'è che a te piacerebbe nel tuo mondo ideale che tu potessi magari continuare a dire che l'Inter ha i rigori e nessuno ti deve dire niente a te invece tu no 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 è così è il tuo mondo fatato invece se tu provo chi non risponde è normale no ad azione corrisponde a reazione no sei tu che non vuoi che si mettono in dubbio gli episodi che riguardano te no sei tu che non ricordi i tuoi tu ricordi sempre quelli degli altri ma i tuoi e soprattutto sempre a sfavore ma i tuoi non te li ricordi ma i tuoi ma i tuoi di quest'anno ma i tuoi di quest'anno il Bologna il Bologna no no ma a Monza a Monza hai fatto gol su un corner che non c'era fosse capitato a noi sareste andato avanti sei mesi sei mesi ma l'abbiamo fatto vedere lunedì al processo l'abbiamo fatto vedere ma come chi l'ha detto come chi l'abbiamo fatto vedere l'abbiamo fatto vedere le immagini comunque io c'è veramente stiamo parlando da un'ora da un'ora quando c'è Chirico in onda si parla da un'ora di arbitri da un'ora ti abbiamo fatto vedere le immagini bene le chiare limpide voi ne parlate ne parlate dal 98 ma come te l'abbiamo fatta vedere ma sei solo tu che parli di arbitri voi è dal 98 che parlate di arbitri anzi dal 61 e dal 61 che parlate di arbitri l'autaro l'autaro recupera palla l'autaro limite l'area di rigore si sovrappone quadrato prova l'autaro e segna anche l'autaro segna il toro e il toro l'autaro Martinez 4 a 0 aspettavamo il suo gol è di prepotenza ruba palla metà campo si invola vuole il gol e col destro dal limite dal limite l'area di rigore in diagonale segna il gol del 4 a 0 è il toro l'autaro Martinez bravo Lauti che sostanza è ma che sostanza è del 4 a 0 va in pressing lui recupera palla centro campo arriva al limite dell'area a gran destro mancava soltanto il gol di l'autaro Martinez era evidentemente solo questione di tempo la festa adesso è davvero completa gioco partita incontro 4 a 0 Inter per noi due minuti forse sì forse no ma insomma è veramente pleonastico perché insomma l'udinese ormai ha poco 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 da chiedere ovviamente come si dice in questi casi Lorenzo non è a San Siro contro la prima della classe che l'udinese deve cercare i punti per salvarsi però insomma attenzione scusami fra Sensi 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 trova Lautaro a palla un po' larga è cotto Lautaro è stanchissimo la va a recuperare vicino a Bandierina si torna indietro ma anche se facesse il quinto va sotto la curva di nuovo a fare quell'esultanza lì si arrampica fa tu devi fare polemica per qualsiasi cosa succeda in campo con la magia 4-0 uno fa gol e non va bene neanche che esunta che noia Marce che noia mamma mia tu pensi che tu devi mi sembrava esaltare con la scaletta quando eri primo che noia cioè uno segna esulta con i propri tifosi lì e non va bene neanche quello bravo bravo Marcello no ma io dico si può esultare gli stai dicendo bravo perché rompe i maroni sì ah ok gli stai facendo altrimenti altrimenti la partita 3-0 cosa fai 4-0 dormiamo 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 almeno stiamo un po' svegli non lo conosco questo qua si precipita sotto la curva vuole arrampicarsi fino sull'anello della curva no ma da 4-0 una squadra che ormai è morta all'Udinese ma povero Petizioni guarda come l'abbiate ridotto povero Petizioni con una brava persona ridurlo così anche per giù vabbè è la prima volta che viene ridotto così quest'anno cioè è abituato quest'anno Lorenzo poverino mi spiace per lui ma purtroppo però a San Siro ha dei buoni ricordi quest'anno la prima vittoria è l'unico buon ricordo che abbiamo infatti i brutti ricordi si riporterà in questa sera i brutti ricordi il povero Lorenzo si riporterà questa sera diceva bene a Milano vai con l'Inter è chiaro che insomma la partita è quasi sei spacciato però non puoi giocare in questa maniera anche se l'Inter stasera è stata superba bravissima ha giocato un calcio bello da vedere avrei fatto pagare il doppio del biglietto io per vedere una partita così dell'Inter ma costa pagare i biglietti è molle è troppo molle non è reattiva non è esplosiva non arriva sulle seconde palle proprio e credo che non sia giustificato solo il rigore che c'era o non c'era eccetera può essere giustificato solo da quello è una squadra che ancora non lo so non so più cosa dire ragazzi che riparte l'Inter con Sensi Sensi tre quarti centrale largo c'è quadrado Sensi fa un numero a metà campo poi gli serve il pallone un po' corto darglielo prima ha provato un numero in più Sensi ha perso palla voglia di giocare Sensi si vede ancora Aslani orizzontale per Carlos Augusto tre minuti alla fine quattro minuti di recupero concessi palla ancora Lauti finta su Christens lato corto a sinistra dell'area di rigore pallone a rimorchio indietro per Aslani che va ad area Barella Barella esterno cercare Sensi sbaglia Wallace ancora Barella colpo di tacco per Arnautovic che prova a lottare a limite l'area di rigore perde palla riparte l'Udinese non benissimo Arnautovic male male riparte l'Udinese sulla sinistra va a rincorrere Barella Barella Tauven c'è il raddoppio di bis che non molliamo neanche su questa palla qui bravo Barella riparte l'Inter due minuti alla fine 120 secondi vai vai prego signor Tiziano sai l'Udinese che ha vinto una sola partita con voi e te lo stavo dicendo giusto l'abbiamo detto prima non l'abbiamo detto adesso te lo te lo te lo dico quanti gol ha fatto l'Udinese ha vinto 1-0 col Milano non lo so quanti gol ha fatto l'Udinese non lo so e allora cosa parli se non lo sai io so solo che vi ho dato una bella peretta e una 0 cosa c'entra questo so mi ricordo questo ha vinto una sola partita 12 gol ha fatto 12 gol l'Udinese simpatica l'abbiamo lasciata vincere si vede cosa ti ha risposto 12 gol ha fatto l'Udinese dai ma vai a saperlo ma perché sono un computer lo sai che sono un computer non puoi essere computer i dati ce li ho io e io mi ricordo adesso ho fatto ho fatto mente locale mi sono ricordato non lo ha fatto mente locale te l'ho detto io prima ma scusa non mi gliel'ho detto io cosa mi hai detto tu non mi hai detto niente come perché non mi senti non mi ascolti cosa mi hai detto tu mi hai chiesto mi hai chiesto quanti gol ha fatto l'Udinese ma prima cosa ti avevo detto non mi hai detto niente cosa mi hai detto vedi come al solito ma non è vero tu mi hai chiesto che ha fatto 12 gol non è vero tu mi hai detto quanti gol ha fatto l'Udinese io ti ho detto 12 no è vero sei bugiardo ah va bene sei bugiardo allora fai vedere la signora Foschini e con quelli di questa sera quanti ne ha subiti 7 25 25 7 aveva la migliore difesa del campionato anche te 25 gol ha subito l'Inter ne ha subiti l'Inter e 25 l'Udinese l'ho detto prima io di te no 25 te l'ho detto io sai che sono un computer lo sai non lo sapevi hai detto 7 hai fatto la solita figura di 20 ne ha subiti 25 ne ha fatti 12 e te l'ho detto io per forza grazie vabbè avete capito che insomma stiamo solo aspettando il fischio finale con il quarto gol di Lautaro Martinez che va a condividere la sua gioia con la curva frate si sorride quindi non è particolarmente rabbuiato per il fatto di non essere entrato si parlava con Inzaghi Inzaghi gli ha detto qualcosa hanno sorriso insieme quindi giochi martedì finisce qua finisce qua l'Inter cala il poker dopo un mese torna San Siro vince 4 a 0 giocando una partita spettacolare 4 a 0 per l'Inter che torna di nuovo prima in classifica adesso abbiamo la Champions però oggi veramente giù il cappello grande grande Inter veramente bravi il controsorpasso per l'unesima volta viene completato la Juventus si gode primato per non più di 24 ore Inter prima Juventus seconda questa è la nuova classifica a lasciarci le penne oggi è il Milan che ormai non aveva velleità di scudetto questo è abbastanza evidente ma deve guardarsi ovviamente alle spalle buon per il Milan che la Juve batte il Napoli e quindi lo mantenga a 5 punti di distanza occhio però perché domani c'è Roma Fiorentina quindi una delle due guadagnerà punti se guadagnarli fosse la Roma il Milan si ritroverebbe i giallorossi a soli due punti in classifica non si sblocca la stagione della Lazio 1-1 oggi a Verona impelagata quota 20 chi sale soltanto ovviamente dell'Inter Filippo difficile forse stasera trovarne tre che salgano soltanto tre perché sarebbero in tanti a meritarsi questo premio che peraltro viene cioè cui tengono chi? tutti sì sì cioè nel senso è già nei tempi di Mauro no no ma è proprio in onore di Mauro l'Appendown è diventato proprio prima quando c'era Mauro era internazionale l'Appendown poi ovviamente abbiamo perso Bellugi ovviamente no ma l'Appendown come sempre come sempre dedicato a lui da lì quando poi sono stato io abbiamo perso qualcosina in appilla fino in Sud America magari no però fino all'Europa ci arriviamo però però li facciamo uguale allora per quanto riguarda gli app Di Marco fino a che è stato in campo poi era stravolto però 8 a Di Marco do qui è difficile do un 7 e mezzo a Lautaro e un 7 e mezzo a Cialanoglu poi ci sarebbe Bissek Mkhitaryan Bastone hanno giocato tutti bene i Dao vabbè ovviamente nessuno ah no aspetta scusami scusami no scusami no togli 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 Lautaro togli Lautaro e metti in zaghi 9 l'avevo detto a l'avevo detto a fine primo tempo aspettavo la fine della partita l'Inter è prima in classifica con un ruolino di marcia incredibile sia a livello di punti che a livello di gol fatti e subiti è già qualificata da un turno con uno ancora da giocare in Champions League manda in gol tutti il gioco corale bellissimo e quindi devo dire che oggi non si può non mettere su l'allenatore che ha fatto che ad oggi ha fatto un lavoro strepitoso poi non si sa come finisce la stagione ma quando lo si critica che perde l'anno scorso perdeva delle partite poi è andato bene dopo l'abbiamo criticato lo abbiamo messo giù gli abbiamo dato anche i quattro oggi però non si può più far finta di niente e bisogna dire che il merito di Inzaghi in questa squadra è molto elevato va bene ragazzi la grande forza della Juve sia proprio questa no? quale? quella di vincere di far gol e poi di non subire sì anche se deve fare una sorta di barricate perché ha bisogno assolutamente dell'apporto in fase difensiva dei centrocampisti e anche degli attaccanti che vanno a pressare sui giocatori avversari mentre l'Inter ha un come dire un ha un gioco più efficace davanti e ha subito due gol in meno rispetto alla Juventus pur avendo un attacco che ha segnato 37 gol c'è anche una cosa strana da dire che nelle otto partite consecutive non ha segnato un attaccante questa è una cosa molto fondamentale ha segnato centrocampisti e difensori in questa Juventus qua nella Juve ho detto vince di cortomuso ma segnano centrocampisti vanno a rete hai vinto hai vinto due con un gol di Gatti e si si ultimamente gli attaccanti non stanno facendo gol no perché Vlaovic Vlaovic segnatamente ha messo ha realizzato meno gol di quello che ci si poteva aspettare ecco come in prospettiva può diventare una squadra assolutamente competitiva se viene fuori il vero Vlaovic sto dicendo che gli stanno mancando anche in gol degli attaccanti una volta che incominciano a segnare anche gli attaccanti questa squadra chiesa il suo apporto in fase offensiva di centrocampo te lo dà quindi andiamo ad ascoltare Massimilio Lallegri perché nonostante la classifica che vedete qui sulla sulla sinistra alla mia sinistra alla vostra destra l'Inter resta avanti la Juventus comunque per quanto accreditata per lottare per il titolo però questa cosa proprio Massimiliano Lallegri neanche sotto tortura riuscirebbe mai ad ammettere ascoltiamolo dopo la partita di ieri sera sul significato di questa vittoria sul Napoli niente neanche Marcello proprio 36 punti ti bastano appena per salvarsi ma lì lo dice vabbè lo dice apposta che così dice domani scrivono sta roba e mi dicono guarda come so che battuta che ho fatto perché non ci crede nemmeno lui è stata cosa poi allora a meno che la Juve non crolli nel giro di ritorno oppure da qui da Genova in avanti la Juve in Champions League il prossimo anno ci sarà quindi il problema è che quello li avevano chiesto la società la dirigenza Juve ad Allegri ha chiesto quest'anno di portare la Juve assolutamente in Champions League il prossimo anno e lui lo sta facendo tutto quello che viene è tutto di guadagnato ma è chiaro che lui stesso lo sa che nel momento in cui stai a due punti tutto te lo puoi giocare soprattutto non facendo la Champions League non facendo nessuna coppa avendo solo una parida da preparare quella distanza lì sai che è colmabile se tieni questo ritmo anche perché è l'unico ormai che non si espone perché se tu guardi i giocatori tutti lo dicono Ravio l'ha detto Locatelli l'ha detto Rugani Rugani Panchina Così si perdono gli scudetti ma secondo me un allenatore che vuole soltanto entrare in Champions League ieri sera va a congratularsi in quella maniera con tutti i giocatori a fine partita non lo spogliatore e se la bacia è che lo scudetto lo si gioca tra quelle squadre lì lui lui sa che la squadra che la Juventus ha segnato 14 gol in meno dell'Inter eppure e ha subito due gol in più dell'Inter ciò nonostante è a due punti dall'Inter certo quindi non ti puoi nascondere stai lottando ma lui sa qual è la forza della squadra lui la sa lui sa che questa squadra sta facendo i miracoli che questa squadra sta dando il 101% in questo momento e quindi chiaramente cerca di tenere di volare basso perché se a questi gli vai a dire siete dei fenomeni siete dei fenomeni quando entri in campo poi finisce come a Sassuolo vi ricordate cosa disse prima di quella partita di Sassuolo c'è un'aria che non mi piace in giro c'è troppa esaltazione si sono esaltati sono andati in campo e non c'erano in campo infatti hanno perso 4-2 da Sassuolo e allora quella lezione lì è servita adesso lui tiene sempre le ali basse e cerca ai giocatori di non fargli alzare troppo la testa dice voi volete sognare sognate però vi dovete impegnare ogni partita i giocatori siccome ci credono e vogliono raggiungere quel risultato danno il massimo pur non giocando un gioco spettacolare certo l'Inter gioca meglio diciamocelo chiaro l'Inter gioca meglio della Juventus però quando ha incontrato la Juventus ha avuto le sue difficoltà anche l'Inter però a un certo punto l'Inter si è anche accontentata dell'1-1 hai visto che inversione a U ha fatto Marcello in un mese e mezzo ti ricordi quando gli dicevamo guarda che la Juve è forte l'Otto Pumava io lo dicevo non siamo una squadra forte che la candidata vince lo Scudetto siamo una squadra da quarto posto se va bene bravo bravo è vero 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 io ho il terrore ho il timore ho il terrore ho il timore che quando parlo voi due non capite no no noi capiamo benissimo Marcello sei tu che rigiri bene le frittate è un povero incompreso è incompreso non capite niente è incompreso è incompreso non lo so è incompreso sarà che dal collegamento non si sente non si capisce bene forse non ti spieghi bene perché non sei competente al cento per cento in batteria forse lo so mettete le cuffie quando parlo io mettete le cuffie quelle del rischiatutto secondo te mettiamo le cuffie quando tu parli ma tu sei forse di amare ci mancherebbe altro e se non capite mettete le cuffie ma se siamo in quattro qua se non parli e diciamo tutti la stessa cosa magari sei te che ti esprimi male oppure sei tu che non capisci però però perché voi mi fate litigare con Cristiano con Tiziano che non l'ho manco nominato io ce l'avevo con te e il sosia di Buffon ho capito ma Tiziano ti ha sentito è mica il storio perché io so ascoltare e mi documento anche sulle tue cavolate e sui tuoi atteggiamenti hanno ragione loro un po' di tempo fate bravo Tiziano bravo Tiziano ha ragione ha ragione ha ragione Tiziano fate comunella e non solo tu non solo tu io comunque ho sempre detto questa rosa e continuo a sostenerlo che questa rosa non è una rosa da scudetto non è una rosa da scudetto però se questa rosa si impegna in campo come sta facendo ultimamente può anche arrivarci ve lo ricordate vabbè voi siete giovani forse se lo ricorda Tiziano ma la Juve di Roberto Herrera no? ve lo ricordate? io ero una Juve circa così invece un Milan di capello 35 gol segliati che ha vinto lo scudetto e solamente 15 gol subiti quindi che cosa dimostra? 35 gol segliati e tu puoi avere anche un attacco inferiore agli altri hai una difesa solida che sa utilizzare al massimo il risultato positivo ottenuto la Juve con un'organizzazione riflessiva efficacissima certo certo ma nessuno gli dice niente stanno giocando quindi è la prima stanno giocando anche se l'Inter secondo me è nettamente più forte è la prima squadra in grado di poter competere contro l'Inter comunque se la Juve ha dei margini di miglioramento in prospettiva la Juventus no anche perché a gennaio qualche centrocampista andrà a prenderlo sicuramente ma a parte qualche centrocampista lo prenderà e qualcosa migliorerà ancora di più uno forse uno uno forse uno ma il problema è guarda la Juve deve restare appiccicata all'Inter fino al 2 febbraio il 2 febbraio noi cominciamo a capire come sta perché il 2 febbraio? non è il 2 febbraio che c'è il ritorno Inter-Juventus guarda che Filippo Filippo ha segnato sì perché poi è capace di dire che non l'ha detto 2 febbraio l'ha segnato poi è capace di dire che non l'ha detto segnalo segnalo 2 febbraio segnalo adesso non so non so se il 2 o il 4 adesso non so ma tanto non ci sono ancora anticipi e posticipi quindi è impossibile dirlo potrebbe essere tra il 2 e il 4 aspettiamo che arrivi comunque lì sicuramente capi comincieremo a capire bene le cose come stanno anche perché poi incomincia la seconda fase della Champions insomma lì incominciamo a capire come va cosa c'è tra Juventus con la Champions no nell'Inter no per l'Inter perché non gioca in Champions vedi che non capisci metti le cuffie te l'ho già detto ah pensavo che giocasse da quello che dice lui a sentire a sentire quello che dice lui a sentire quello che dice lui pensavo che giocasse in Champions non capisci non capisci metti le cuffie vedi che quando parlo non capisci ma nessuno ti capisce sei un incompreso no perché voi siete perché voi non capite voi siete sì voi siete diamo una linea alla regia